Albert Einstein negli ultimi anni della sua vita aveva deciso di dedicarsi alla ricerca della prova dell'esistenza di un'entità superiore, suprema, Dio. La chiamò Die Gotto Formul. La cosa incredibile è che aveva iniziato e con i suoi collaboratori stava procedendo verso la giusta direzione. Ma ahimè nel 1955 morì e non poté ultimare questa ricerca che era la madre delle ricerche. La formula di Dio ovvero la prova scientifica ripetibile quindi dell'esistenza di un'entità suprema. Bene partendo da questo evento meraviglioso dedicato soprattutto agli scettici, alle persone che hanno il naso di San Tommaso, alle persone che hanno bisogno dei riscontri, delle prove, di quello che è necessario al di là della fede, di avere una certezza che quando io smetterò di respirare ci sarà dell'altro, dedico questa importante notizia. Il 24 e il 25 di febbraio di quest'anno, 2024, ci sarà la terza edizione della formula di Dio. Solamente online, in diretta, ma sarà completamente registrato e consegnato a tutti gli iscritti, sabato 24 alle ore 14.30 fino alle 18.30 e tutta la domenica 25 febbraio con degli ospiti esclusivi molto importanti che parteciperanno a questa terza edizione, tra i quali il dottor Piero Calvi Parisetti, medico che lavora per le Nazioni Unite, oggi risiede in Scozia ed è uno dei massimi esperti della Near Dead Experience, esperienze vicino alla morte. Le persone che sono morte per alcuni minuti, per alcuni secondi e che poi tornate in vita hanno raccontato quello che hanno vissuto, tutto questo osservato da un punto di vista scientifico e medico. Poi avremo Eleonora Brigliadori che, abbandonata la sua attività di spettacolo, è diventata una delle più importanti ricercatrici della antroposofia, ovvero la scienza dello spirito, ovvero Rudolf Steiner e ci racconterà che cos'è l'aldilà a seconda della visione di Rudolf Steiner. E poi ovviamente abbiamo anche Enzo De Caro, che è un grandissimo attore, compagno di lavoro di Massimo Troisi, che ha iniziato un percorso di ricerca e di legato all'aldilà che ci racconterà in maniera molto intima. Vorrei anche annunciarvi che solamente durante la formula di Dio io vi farò vedere dei filmati incredibili, spettacolari, di entità importanti che sono apparse e ci hanno dato delle informazioni rivoluzionarie, destrutturizzanti su quello che è il nostro condizionamento che dura da secoli e secoli su quello che è l'aldilà, partendo ovviamente dai grandi dogmi religiosi per arrivare alle informazioni più spicciole. Ecco, tutto questo si può fare solo in modo intimo e non pubblico come su YouTube o i canali social e quindi dovete venire a partecipare a questo evento molto importante, dove abbiamo più di 10 ospiti e degli ospiti in diretta, tra i quali Sonia Gabaldo, questa donna prodigiosa con delle capacità e dei poteri incredibili che non ho mai incontrato in vita mia, che farà ovviamente delle rivelazioni in diretta e farà anche dei contatti guardandovi in faccia perché sarà possibile anche che voi possiate intervenire in diretta durante questa due giorni potentissima. Andate su marcocesaticassin.com, cercate la formula di Dio e iscrivetevi perché vi assicuro, veramente ne va la pena, non potete mancare. A presto, io sono Marco Cesati Cassin. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ed eccoci qui, buonasera a tutti, ben trovati, tanti amici che vedo apparire, ma abbiamo un ospite veramente speciale, una persona che ha una vita racchiusa in cinque, cinque vite racchiuse in una. Abbiamo tanto da ascoltare, da imparare questa sera. Ciao Giorgio, benvenuto tra noi. Eccoci qua. Giorgio che ti ho invitato, oltre perché avere una grandissima stima e soprattutto per assorbire, ascoltare quello che devi raccontare, per un libro che mi ha molto colpito e che penso sia il tuo ultimo lavoro. Mi confermi questo? La prossima vita? No, no. L'ultimo devo uscire tra un mese è sul mantra OM, che è la vibrazione base dell'universo, secondo i veda. Però siccome tutti hanno parlato di mantra OM, allora io ho scritto un libro che... Io ho raccontato un libro perché, essendo uno scrittore anch'io, per me l'ultimo è quando è uscito, quando è stampato. Sì, sì. Eccolo qua. La prossima vita. La prossima vita. Il titolo acchiappa molto, ma il solo titolo... Il titolo acchiappa perché questa è la seconda edizione, adesso uscirà la terza. Nella seconda ho messo non solo come programmare la prossima incarnazione, ma anche come uscire dal ciclo ripetuto delle reincarnazioni. Mi rendo conto che la maggior parte delle persone non sa cos'è il ciclo ripetuto delle reincarnazioni. Cioè, noi siamo in un piccolo pianeta, piccolo... Anzi, siamo in un piccolo corpo, in un piccolo pianeta alla periferia della galassia. E il pianeta, con noi, ruota intorno al sole. Però l'effetto ottico è che il sole sorge e tramonta. Non è mai sorto, non è mai tramontato. So che molti fidanzati, innamorati, si sono incontrati all'alba del tramonto, ma era la terra che gira. E nessun fidanzato ha mai detto a lei, senti la vibrazione della terra che gira. No, è il sole. Quindi il sole non si muove, è la terra che gira intorno al sole. Però, tutto il sistema solare ruota intorno al centro della galassia. E la galassia si muove. A velocità incredibili. Siamo dalla velocità, il giorno alla notte, dovuto al fatto che la terra gira su se stessa tra il 1500 e il 1700 km all'ora, a seconda della posizione sulla terra. Io, stasera, parlerò di un'eresia. L'eresia cos'è? La reincarnazione. Perché è un'eresia? Su 8 miliardi di abitanti, 2 miliardi abbondanti, storicamente non credono alla reincarnazione. Sono certi. Vivono proprio perché sanno cos'è il karma e la reincarnazione. Adesso, l'Occidente, io e te parliamo di reincarnazione. Allora, la prima edizione del libro era Puoi programmare consapevolmente, intelligentemente, volontariamente la prossima incarnazione. Poi ho aggiunto un pezzo, uscire e non reincarnarti più. Adesso ho fatto la nuova edizione. Non reincarnarti più. Scegliere di non reincarnarti più. Adesso ho fatto un'altra edizione ancora che uscirà, e te la manderò, e l'ultimo capitolo si chiama l'eternità. È la parola più importante di tutto e nessuno ne parla. Nei talk show, nei libri, nei giornali, nelle scuole. Nessuno dice Ciao caro spirito eterno, come va? Come va l'eternità? Nessuno ti può togliere l'eternità, ma te la possono inquinare. Di modo che tu, nascendo, a me quando da bambino mi dicevano che ero un peccatore, io già ricordavo le mie incarnazioni precedenti. Però, siccome questa è l'ultima incarnazione, sono nato in Italia, perché l'Italia è un punto chiave del pianeta Terra. Basta pensare che quasi il 60% delle opere d'arte sono state fatte in Italia. Basta vedere l'arte, il rinascimento, tutto quello. E l'Italia ha una varietà di fiori, di piante, 1500 laghi, 1200 fiumi, c'ha montagne con la neve, appennini, vallate, c'è tutto. E poi c'è l'alimentazione unica. Lavori per il touring? No, non lavoro per il touring. Lavoro per alzare l'autostima degli italiani, perché chi nasce in Italia ha tutte le cose, si direbbe, le carte in regola per star bene, però c'è tutta un'organizzazione politica e religiosa per abbassare il livello di coscienza. Quindi, basta alzare il livello di coscienza e uno scopre ah ma qui si sta benissimo. Infatti, molti che vanno a fare dei giri all'estero, quando tornano uguali, dicono qua si sta bene. Il punto è perché eresia? Perché combattuta? Perché padre Amort, che ho incontrato prima che lasciasse il corpo, diceva lo yoga satanico? Perché la minaccia della morte spaventa. Tu pensa che in Europa la prima scuola che parlava di reincarnazione fu creata da Pitagora nella zona di Crotone. Cioè, quindi l'Italia era stata scelta da uno che è andato via dalla Grecia perché c'era la dittatura e si chiamava Tirannide, il dittatore era il Tirano, è andato a studiare esoterismo e spiritualità in Egitto. Poi con le navi è andato in India e siccome era molto affettuoso, l'hanno chiamato Pitagorio, Pitagora. Ha studiato la matematica prendendo da un testo vedico di matematica e ha portato il teorema di Pitagora, le tabelline, l'alimentazione vegetariana e la reincarnazione. Dove? In Italia. Perché lui, molti parlano del conflitto Italia del nord e del sud, era chiamata la Grande Grecia, che in italiano suona strano perché è Magna Grecia, sembra la Grecia che mangia, invece Magna, come Alessandro Magna, vuol dire grande. Ma scusa, sei uscito un po' dalla parola iniziale che mi interessava, che era eternità. Allora, tu dici... Eternità è la nostra ricchezza. Che cosa vuoi significare? Tu eternità, ovviamente, dentro questo mondo lo possiamo intendere, ma fuori di questo mondo. Vedi, l'eternità... Per capire l'eternità è come uno che va a fare il bagno in piscina e uno che va a fare il bagno al mare. Tutte e due hanno fatto il bagno, però la piscina è limitata, l'oceano no. Quindi, cosa vuoi che ne sappia una rana, dicevano gli antichi, nata e cresciuta tra stagni e paludi. Come fai tu, che sei un grande divulgatore, andare a spiegare cos'è l'oceano a una rana? L'unica cosa che gli puoi dire è acqua qui, acqua là. Vita qui, vita là. Però nessuno è morto. Muore il corpo. Poi il corpo non è che muore. Il corpo non funziona più. Quindi tutti quelli che sono morti, non sono morti, sono stati obbligati a lasciarlo. Solo i grandi maestri scelgono di morire, cioè di lasciare il corpo, e dicono l'ora, il giorno, il minuto, quando. In India, davanti agli altri, lasciano il corpo e si chiama grande samadhi, grande uscita dal corpo. L'eternità viene negata per spaventare. Quindi la morte, ovvero sia la minaccia della morte, che si basa a morte e alla fine di tutto, io quando ero bambino, la mia famiglia di Ascoli Piceno, mia nonna si chiamava Iside, però aveva l'abitudine, anche se era anticlericale, di portarmi ai vari funerali. Io dicevo, ma nonna, ma perché qua piangono? Non sono contenti che, dicevo il nome del morto, perché erano tutti più o meno coetane, di mia nonna, è tornato da Dio. Dico, ma come? Uno torna da Dio e tutti sono tristi? Ma allora qualcosa non funziona, no? In India, quando qualcuno muore, fanno festa, danno da mangiare gratis, si vestono di bianco. Qui si vestono di nero, piangono, occhiali neri. La cosa più triste è vedere quando muore qualcuno dello spettacolo. Non ridono più. A Roma hanno fatto la chiesa degli artisti, addirittura, dove il più artista è il prete. Se vai a vedere quel prete lì, sembra lui la vera star. Perché lì gli passano tutti, Maurizio Costanzo, tutti quelli che muoiono, ma tutti là. Lui, io ho poi guardato dei video di questi funerali alla chiesa degli artisti, ah, Maurizio Costanzo è là che mangia la cioccolata. Ma come fa a sapere? Ah, quello lì è in cielo. Ma quale cielo? Quello lì, quindi la reincarnazione è restituire all'individuo la mappa, la sua identità. Quindi, ripeto, a contatto con l'energia materiale, col DNA, la coscienza entra in uno stato di assofazione. Il DNA è una droga. Sviluppa attaccamento e poi non riesce a uscire, perché i sensi sono attaccati ad altri corpi e attaccati agli oggetti. Però pensi che ognuno di noi ha già lasciato male il corpo quando è nato. e infatti ti fa morire un'esperienza simile al nascere. Sì, perché devi lasciare un corpo. Devi lasciare un corpo. Quello che ti ha tenuto fino adesso è così, per nove mesi. siccome molti nascono male, ti faccio esempio questo medico francese che io apprezzavo molto, Le Boyer, Frederic Le Boyer, andato in India ha detto oh, ma calma, lì non tagliano subito il cordone ombricane. Mettono il bambino sulla pancia. Cioè, lo lavano, gli fanno i massaggi. Non è che ta, boh, bah, quello si ritrova isolato in un gabbiotto chiamato Culla che ha le sbarre come un carcere. Poi è chiaro che diventa aggressivo. Poi quando arriva a otto o nove anni invece di aiutare il bambino, la bambina a ricordare le vite precedenti dicono tu sei un peccatore perché tu discendi da Adamo quindi sei un peccatore. Però siamo tutti figli di Dio. Io hai descritto le cinque fasi della vita. Prima, vivere la nascita. Seconda, vivere la vita quotidiana. Terza, vivere l'esperienza della morte. Quarto, vivere la condizione post-mortem. Quinto, vivere la successiva rinascita. Queste sono le cinque fasi della vita. Sì, perché noi confondiamo vita con l'incarnazione. Allora, io prima ho chiesto a te tuo figlio che classe fa la seconda elementare ma non la fa tutta la vita la seconda. Poi fa la terza, la quarta, la quinta, per l'altro, va alla scuola Montessori, bravo padre Marco che l'ha mandato nella scuola Montessori, che almeno fanno capire se dai un bambino dieci quadrate o venti quadrati di colori diversi, quello lei, quello lei, gioca e giocando sviluppa creatività. Invece, io ricordo che quando io parlavo di incarnazioni precedenti, vuoi sapere i risultati? bocciato in prima media. Allora dico, sto zitto che... Quarta ginnasio, bocciato. Perché? Perché io spiegavo la reincarnazione, poi i compagnucci, le compagnucce di classe andavano a casa, io sono andato in 1946, quindi sto parlando degli anni 60, proprio 60, 62, 62, 63, 63, 63, i genitori chiamavano i presi della scuola. Tu pensi che la professoressa di matematica e fisica, la scuola iniziava il primo ottobre, il 10 ottobre mi ha dato due in matematica e due in fisica. Io essendo anche numerologo sapevo che il 22 è un numero sacro. Mia madre va a parlare con lei e fa ma se non ha interrogato Giorgio, perché gli hai dato due e due? Così la smette di parlare dell'India, perché tutti giustamente mi chiedevano ma tu, eccolo qua, figlio dei fiori. Questo è Leo, quattro mesi fa. Tuo figlio, figlio dei fiori. Allora, dice, deve smettere di parlare dell'India, perché mi chiedevano ma se tu ti ricordi le vite precedenti, dove eri? In India, sull'Himalaya. Quindi io tornai in India la prima volta, 56 anni fa, nel 1968. Però la soddisfazione è che il liceo da cui sono uscito, liceo classico Parini di Milano, è stata la prima scuola occupata nell'intero pianeta Terra. Perché non insegnavano niente, anzi, facevano a credere che gente come Giulio Cesare, Napoleone, San Romagno, che hanno causato morti, feriti, dannazioni, fossero eroi. Per me un eroe è quello che vive con gioia, con amore questa esperienza umana. Quindi bisognerebbe che la nascita fosse vissuta in modo diverso, l'infanzia. Ma sai quanti bambini ricordano le vite precedenti? Ma cosa gli dicono? Fantasia, poi cresci, così. E hanno creato un falso mondo astrale. Il falso mondo astrale è stato creato prima da chi scriveva le favole però era simbolico. Biancaneve e sette nani non è come ha detto quella povera attrice che Biancaneve era la badante e sette nani. Se no c'erano di notte Biancaneve e sette nani. Biancaneve è la Kundalini bianca e i sette nani sono i sette chakra. Ogni chakra è una miniera di diamanti. Dov'è che vanno a lavorare ogni nano? Nella miniera è di amare. Come Pinocchio. Pinocchio finché uno dice le bugie non è umano. E perché la bugia è collegata al naso? Persino la CIA io ho stato nove anni negli Stati Uniti persino la CIA ha scoperto che quando uno mente spudoratamente ha prurito al naso. E quindi loro quando devono analizzare un politico non guardano il sonoro c'è uno che guarda il linguaggio del corpo e scrive poi quando mettono il sonoro sta mentendo è quasi falso completamente falso studiando il linguaggio del corpo. Quindi Pinocchio che vuol dire occhio dalla pineale terzo occhio da Buratino diventa umano. oggi il falso mondo astrale è gestito da Disney e Marvel poi a una certa età ti dicono senti caro devi sapere una cosa Babbo Natale non esiste ma come non esiste Peter Pan mai visto ma come Peter Pan mai visto allora ecco il trauma poi dice perché gli adolescenti diventano nervosi agitati perché gli hanno creato il falso mondo astrale ma a proposito di mondo astrale che cos'è il Bardo Bardo se vai in Francia ha il cognome di Brigitte Bardo 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 vuol dire tra e do due e tra le due dimensioni è il passaggio che noi facciamo ogni notte o ogni giorno quando ci addormentiamo e quando ci risvegliamo però quando ci addormentiamo non tutti hanno consapevolezza quindi consiglio questa dimensione al di là di che cosa uno sognato perché la maggior parte delle persone purtroppo non sa sognare e su 60 anni di vita uno ne passa 20 a occhi chiusi però non interessa né sindacati né al Vaticano né al governo né all'ONU né all'Europa in quei 20 anni che uno passa a occhi chiusi se non ha capacità come diceva il buon Carlos Castaneda che gli aveva insegnato un cuan è preda di strani fenomeni però io dico quando ti svegli prova a pensare che il messaggio che ti dà il sogno è che sei multidimensionale cioè tu nel giro di pochi minuti se stai attento passi da una realtà che sembra vera stai magari facendo il bagno arriva al mare con amici o con un amico o con un amico ti svegli e sei una stanza al buio quindi il passaggio dimensionale quindi quando uno sta per morire o da vicino meglio o da lontano possiamo mandare vibrazioni di conoscenza il viaggio continua caro spirito eterno stai lasciando un corpo materiale è già successo altre volte puoi decidere se rinascere o continuare a essere quello che sei a livello originale uno spirito eterno perché molti pensano ma ragioniamo no Michelangelo ha fatto quello Buonarroti ha fatto no ma ci aveva una squadra non è che ha fatto da solo allora perché pensare che c'è solo un Dio creatore e non esseri superiori che creano da quello che mi risulta le ricerche che ho fatto io ho stato 9 anni negli Stati Uniti feci uscire i primi libri di Zaccaria Secci che ha parlato degli Anunnaki che ho fatto uscire io perché eravamo molto amici a lui sai come l'ho conosciuto con la curiosità ho letto su un giornale americano un giornale alternativo degli Anunnaki e dico assomiglia a idea di quel panone c'era scritto Zaccaria Secci numero di telefono addirittura l'ho chiamato New York sono andato a New York sono andato a casa sua gli ho telefonato poi gli ho mandato la Susi Bladi che gli ha fatto 5-6 interviste per turisti per caso e gli ho spiegato che è vero che gli Anunnaki hanno agito sulla Mesopotamia gli assiro babilonesi ma altri deva hanno agito su altre civiltà e in tutte queste civiltà si parla di questi esseri superiori plurale l'unicità della regione cattolica che si presenta come monoteista però dice che Dio è un etrino quindi sono già tre e tre dove l'ha presi la Tremurti la Tremurti che c'è uno che crea uno che trasforma uno che mantiene però sempre plurale noi siamo piccoli creatori e dobbiamo capire che stiamo facendo un'esperienza umana io è l'ultima questa è la mia ultima incarnazione sul pianeta Terra e sono contento di quello che sto facendo quest'anno 78 giri intorno al sole quando io ho cominciato a dire invece degli anni giri intorno al suo mondo ma quali giri scusa allora di giorno tu vedi una stella ma quale stella il sole ma sai che quante volte ad estate a mezzogiorno dico la vedi la stella molti dicono non vedo c'è il sole non lo vedo ma è lui è quella la stella che tra l'altro è una stella nana rispetto ad Aldebaran e Altares ci sono delle cartine c'è un puntino è il sole e Aldebaran è grande come dieci volte la mia mano poi la terra buttata contro il sole si scioglierebbe ancora prima di toccare la superficie del sole allora l'ignoranza serve per controllare la reincarnazione serve per minacciare gli altri di morte e chi l'aveva capito Giulio Cesare io l'avendo studiato italiano l'atena e greco poi per conto il mio sanscrito nel De Bello Gallico siccome lui soffriva di insonnia Giulio scriveva in modo oggi diciamo autobiografia quindi De Bello Bello non vuol dire bello vuol dire guerra la guerra contro i Galli dice loro sono avvantaggiati perché loro sacerdoti i druidi gli dicono che se muoiono soprattutto in combattimento rinascono bene i nostri dice Giulio Cesare no però perché queste conoscenze Pitagora in Italia c'è stato un grande filosofo greco vissuto in India che ha fatto la scuola pitagorica vicino a Crotone e sai che conosceva la reincarnazione bene Giuseppe Mazzini allora siccome Giuseppe Mazzini voleva che Marco Cesare Cassin sapesse che lui credeva alla reincarnazione ecco le scamotage la genialità quando il re Savoia dice a Garibaldi vabbè finito lo show adesso arrivo con 130.000 soldati e sterminiamo tutti i ribelli ci vediamo a Napoli Mazzini dice no Napoli no Teano Teano storicamente vai nei libri di storia sono incontrati a Teano ma perché a Teano perché Teano era la moglie di Pitagora e era la moglie di Pitagora lui siccome era uno yogi a 60 anni va a fare il bagno e aveva una buona abitudine allora parliamo di secoli prima della repressione sessuale cristiano cattolica facevano il bagno nudi lui a distanza vede una bellissima ragazza di 18 anni che fa il bagno anche lei nuda si mettono insieme e lei diventa quando lui lascia il corpo aveva 42 anni più di lei quella che porta avanti la scuola esoterica spirituale da cui dipende anche la scuola medica salernitana quindi dico se qualcuno adesso Teano Crotone Salerno sta sentendo deve saperle questa cosa qua c'era una scuola esoterica che parlava di alimentazione vegetariana numerologia e ricordi e analisi dalle vite precedenti senti Giorgio a un certo punto del libro tu in un capitolo mi hai lasciato veramente sbalordito e vorrei che tu lo commentassi perché si intitola Scambio di Spiriti ti leggo un piccolo passo in America la prima persona a parlare di questo scambio di Spiriti è stata Ruth Montgomery insieme alle sue guide secondo lei uno scambio di anime è un accordo tra due spiriti che decidono di scambiarsi il posto uno dei due spiriti si trova in un corpo e se ne vuole andare mentre l'altro spirito è disincarnato e desidera essere ancora in un corpo ragazzi è una bomba questo una bomba io ti ho detto ho stato 9 anni negli Stati Uniti e in questi 9 anni ho incontrato tutti quelli che potevo incontrare quelli famosi qua era lui 6 Deepak Chopra appunto Zakaria 6 si chiama Parakaya Pravesh in Sanskrit sono due modi di vivere il Parakaya Pravesh uno Parakaya Pravesh è che due spiriti sono d'accordo uno esce l'altro entra gli americani chiamati walk in walk vuol dire camminare dentro c'è uno che entra questa psicologa e anche un altro i due hanno cominciato i studi la Ruth Montgomery e un'altra sono andati a intervistare quelli che tornavano dalle esperienze di premorta e hanno visto che non era la stessa persona cioè avevano dei ricordi così ma ragionavano in un modo completamente diverso quindi divorzi cambio di lavoro i parenti che dicevano non è più lui non è più lei e questi invece che avevano delle conoscenze molto molto approfondite molto no? io poi sono diventato amico che adesso viene spesso in Italia perché ha una figlia che si è sposato in Italia cioè per quello che Raymond Moody siamo diventati amici negli Stati Uniti e lui ha uno che ha il senso dello humor perché io sono un incrocio tra Paperino e Sigmund Freud ecco no? per dirti il personaggio lui siccome ha tre lauree una fondazione americana collegata con una università gli ha dato i soldini per studiare 5.000 persone che tornavano dalle esperienze per morte che io ho avuto ne parlo di questo libro se uno vuole il libro mi scrive non lo faccio per guadagnare perché se uno mi scrive i soldi vanno scusami fai rivedere ancora il cartello che ho scritto jo.cerquetti chiocciolalibero.it se uno vuole questi libri il ricavato va in beneficenza perché in India siccome ci vivevo nella vita presente ci ho vissuto molto in questa abbiamo distribuzione gratuita di cibo vegetariano costruiamo case a chi vive nelle campane che distrutte ogni anno dai monsoni e abbiamo un orfanotrofio per bambine per bambine orfane orfane però io ho chiamato il grande viaggio è un'altra ritorno dall'aldilà proprio perché ricordo perfettamente il fatto che io facessi yoga meditazione respirazione consapevole alimentazione vegana prima dell'esperienza di premorte ha fatto sì che ricordassi tutto però mi sono nato poi ho diventato amico di vari se vuoi ti racconto un episodio divertente no? un episodio divertente c'è uno che era con i marines quindi alto m85 se quelli alto biondo un marco cesati cassin de marines che è al telefono telefono quelli portati non c'erano quindi telefono col filo entra un fulmine nel telefono lui viene buttato contro il soffitto le scarpe fuse col pavimento e lui sta sei mesi circa in rianimazione poi si riprende quando lui va in quello che noi chiamiamo altra dimensione incontra una diecina di spiriti disincarnati che gli dicono tu devi aprire degli hospice che adesso anche l'italiano usa una parola hospice cioè dei posti dove un marato terminale va sapendo di essere terminale quindi va curato più con antidolorifici che con medicine che gli guariranno la malattia e devi dedicarti a questo sappi che quando spieghi questo devi dire come joke joke in inglese vuol dire come gioco come scherzo ragazzi la vacanza è finita si torna a casa a quelli che stanno per morire e quando lui ha cominciato a raccontare queste cose la gente dice ma come te l'hanno detto nell'aldilà lui ha un infarto torna in quella dimensione rincontra i dieci ma cos'è una barzelletta? no 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 sembra una barzelletta? no ci hanno fatto anche un film salvato dalla luce ah Danny O'Brinkley Danny O'Brinkley è stato un best seller trent'anni fa rincontra gli stessi spiriti? e gli dico quelli mi prendono in giro allora uno dei dieci gli dice ah ti prendono in giro adesso voglio vedere se ti prendono in giro io ti do il potere di leggere la mente degli altri poi voglio vedere se ti prendono in giro allora siccome Raymond Moody aveva i soldi per invitare tutti quelli che avevano casi particolari la un giorno mi raccontava Raymond che invita Danny O'Brinkley che racconta tutta la storia affascinante che quelli hanno detto devi dire ai moribondi la vacanza è finita si torna a casa e poi gli dice che quello gli ha dato il potere allora Damian Damian O'Brinkley dice Raymond fa ma no dai allora lui dice vedi e indica c'era l'aula magna no? dice tu hai una sorella che si chiama così tu tu hai una macchina blu di targa poi alla fine gli dice Raymond Raymond vabbè 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 andiamo all'aeroporto fa guarda a me mi è piaciuto tutto però quello scherzo con i miei studenti doveva fare lui fa quale scherzo tutti si è messo accordo con i miei studenti che infatti dicevano è vero io ho la macchina blu mia sorella si chiama Laure no no ma io vuoi che ti dica cosa hai nella mente Raymond stava guidando ancora un po' va fuoristrata ma allora è vero si sono andati in televisione c'era una diretta di un'ora è durata a quattro ore sono stati invitati alla televisione russa la trasmissione di un'ora è durata a quattro ore e mezzo perché tutti telefonavano e lui diceva Marco Cesati Cassini tu c'è un figlio si chiama Leo sì avanti un altro così allora io siccome non sapevo dove vivesse quando ero in America ho detto caro Danion incontriamoci allora senti la storia io sono in un albergo di New York in una delle sale di questo mega albergo c'è un convegno New Age che la ne fanno ogni mese ce n'è qualcuno c'è un corridoio poi c'è un angolo con una poltrona per chiunque poi c'è un altro corridoio che arriva alla reception io in una pausa così per rilassarmi mi siedo sulla poltrona vedo arrivare dalla destra dalla reception dall'ingresso di questo mega albergo uno che cammina spedito alto biondo occhi azzurri fisico da mare mi si avvicina mi dà la mano mi fa hello my name is Daniel Brinkley how are you ciao sono andiamo a come dico io ho sei mesi che volevo ricordare lo so mi saluta e va dentro la sala quindi la prova ce l'ho avuta che questo qua legge nella mente ma non è l'unico che legge nella mente perché oggi se uno legge nella mente va a giocare in borsa cioè nel senso io ho incontrato negli Stati Uniti alcuni sensitivi che non fanno i sensitivi per dire alla zia Pina si incontrerà un fidanzato giocano in borsa e se vuoi ti dico anche come che metodo usano vuoi che te lo dico? si però no dopo mi dispone allo scambio di spiriti perché sei andato fuori strada tu no e no perché gli spiriti scusa io c'è sempre un accordo tu hai detto a Danny O'Brien che gli ha dato quel potere questi qua che l'ho invitato anche in Italia Russell Tarr che lavorava poi per la CIA e la NASA a Giaduondo ha detto facciamo una cosa prendiamo il mercato dell'argento hanno fissato tre frutti no metti banana va su mela va bene limone va giù no dico così color si mettevano a meditare ognuno scriveva oh banana non diceva va su va giù visualizzavano e tornava no e si sono fatti la villa con la piscina giocando in borsa senza dirlo a chi a me non hanno detto che siamo amici anzi hanno detto abbiamo la fortuna di incontrare un vero sensitivo made in Italy che sarei io ma io non faccio il sensitivo non appartengo nel suo gruppo ti dico solo che è possibile uscire dal corpo e fare uno scambio o addirittura nel libro che ti manderò di Suamirama lui parla che uno yogi molto molto vecchio vede che uno sta lasciando il corpo a un ragazzo ma in un modo che si può riattivare praticamente un piccolo infarto e gli rimette lo yogi lascia il corpo e va siccome questo yogi anziano conosceva Suamirama quando da giovane arriva a incontrare Suamirama gli dice ti ricordi e Suamirama che questo è il libro che ti manderò Suamirama l'avete illuminata lui rimane colpito fa ma allora è vero persino Suamirama dice ma supera la mia fantasia sì perché io ho visto che quello lì stavo lasciando il corpo il mio era vecchio l'ho cambiato possiamo chiamarlo dal punto di vista karmico un usato sicuro chiaro che non vai a prendere il corpo di uno che sta morendo di cancro o di uno che uno che in genere il cuore la cosa più facile da riattivare il cuore perché il cuore è un muscolo è un muscolo quindi se uno ha un arresto cardiaco e lascia il corpo però ci sono dei casi di accordi di accordo cioè uno esce e uno entra in India ho visto degli professori di psicologia di università indiana io ho esuto molto tempo in India ma quindi se entra dal tuo spirito cambia la personalità cambia cambia sì cambia cambia completamente mi raccontava Jamuna Prashad che ha studiato 5.000 case Stevenson che ha scritto 20 case li ha presi da Jamuna Prashad in India e anche i giapponesi perché lui era professore di psicologia ha detto noi sappiamo cosa le interazioni gli occidentali no col suo gruppo di studio hanno studiato 5.000 bambini 5.000 e il caso più clamoroso è quello del bramino un bramino di circa 30 anni lascia il corpo ma non accetta l'idea e rientra ma non rientra nel suo in un corpo di un bambino di 9 anni e comincia a dare ordini in sanscrito e i genitori dicono ma cos'è poi han chiamato dei bramini lui ha detto ai bramini io sono e hanno visto che era morto cioè nella stessa città a distanza di qualche chilometro muore uno diciamo noi di 9 anni uno di 30 quello di 30 con il suo potere entra in quello lo rianima e si fa riportare dai bramini i bramini sarebbero i sacerdoti no quindi questo è un ma in India di casi così ce n'è tantissime no ce n'è Giorgio il tempo vola e io ho delle altre domande da farti importanti la liberazione finale dal ciclo delle rinascite come noi siamo siamo intrappolati in un circolo che in sanscrito c'è una parola samsara ciclo ripetuto di nascita vita morte rinascita vita morte però c'è anche la vecchia vabbè salta la vecchia e può morire prima però se scorre tutto è nascita malattia vecchiaia morte rinascita allora grazie allo yoga all'alimentazione non violenta grazie alla respirazione consapevole grazie alla conoscenza è possibile decidere io chiudo io cambio pianeta no ma scusa lo decidi c'era una battuta come? lo decidi quando sei ancora di qui o quando sei in là? allora se la reincarnazione non c'è è un risveglio una decisione se la reincarnazione non c'è parlare della reincarnazione è tempo perso ma si perde tanto tempo con delle stupidate ma se la reincarnazione c'è è meglio arrivare preparati sia per dove rinascere sia per non rinascere perché sai cos'è? finché uno parla e cammina rinascono a forma umana ma ci sono milioni di persone che nascono già malati nascono già handicappati e però li chiama tutti i figli di Dio però io io sono figli del loro karma allora io ho deciso che questa è la mia ultima incarnazione e c'è c'è uno diciamo esoterico che ha fatto una battuta se non puoi cambiare il pianeta in cui vivi vai a vivere un altro pianeta una volta si diceva a quel paese vai a vivere un altro pianeta proprio perché l'intelligenza sta nel fatto che nel grande gioco cosmico questo è un episodio un frammento una puntata è un qualcosina quindi nessuno ha perso la vita ecco l'informazione nessuno cioè è chiaro che se tu vai al mare vai a un stabilimento balneare c'è uno con la canottiera scritto salvataggio ti salva il corpo non la vita il chirurgo ti salva il corpo non la vita perché la vita è eterna mai nato mai morto Krishna 5.000 anni fa lo spiega non ci fu mai un tempo in cui non esistevamo e non ci sarà mai un tempo in cui ci sarebbe esistere quindi 5.000 anni fa lo yoga era già famoso i fatti di Cristo dice adarjuna si uno yogi quindi lo yoga 2.500 anni fa Buddha dice la stessa cosa Buddha questo qua dietro e 500 anni prima di Cristo Pitagora tutti quelli che hanno detto quello che sto dicendo sono stati sterminati dall'inquisizione quando è finita l'inquisizione cattolica sono iniziati i manicomi oggi per alcune persone io e te siamo strani però siamo strani perché diciamo cosa dammi le prove ma io ho scritto un libro la scienza eterna dell'incarnazione dicendo che per scientifico si intende dimostrabile allora io dico che ricordo le mie vite precedenti il Dalai Lama ne ricorda da 14 cioè fa sempre il Dalai Lama da 14 incarnazioni gli hanno pure il premio Nobel , allora quelli del premio Nobel è andato il premio Nobel in Svezia uno strano ma ci sono tanti tanti se tu hai deciso di puoi decidere per uno stato di coscienza più elevato di non reincarnarti vuol dire che hai alzerato il tuo karma no lo cambi il karma non è negativo negativo il karma karma vuol dire causa e effetto invece di rinascere continui come eri una volta per cui qualcuno dice ritorno a casa ma l'infinito presente è una casa così estesa per cui ovunque casa non è che azzeri il karma lo cambi il DNA dà assofazione alla mente quindi se la mente è controllata dal DNA dai sensi dagli oggetti dei sensi corpi o oggetti inanimati se invece yoga vuol dire equilibrio mente corpo spirito a questo punto ti devo far vedere una mia foto con la barba e i capelli lunghi perché io adesso sai perché mi vesto così non perché mi piace per non farmi fare le solite domande quando mi vestivo come nelle vite precedenti io in pratica non mi vestivo ti faccio vedere Giorgio Cerquetti a 15 anni quando ho deciso nel 1960 di diventare vegetariano mi sedevo così e mi dicevano la spiaggia e il San Melletto ma perché ti siedi così e poi ero così però preferivo sempre non avere vestiti il mio Luca mi sembri Phil Collins da giovane mi sembro quello che adesso mi vesto in modo ordinario per parlare serenamente di cose straordinarie 78 anni 78 anni però sto bene vegetariano dall'età di 15 poi hai una memoria che è enciclopedico veramente fantastico ma sai cos'è io sai perché non parlo ancora dei Deva perché ho deciso di parlare dopo gli 80 anni perché già a dire se poi dico che vivo anche in altri pianeti allora e lo dirò lo dirò è una frase ti dico la maggior parte ti dico la maggior parte degli UFO oggi c'è una nuova parola anche in guerra che siano droni di droni che vuol dire non sanno cos'è sono degli aerei degli oggetti volanti senza pilota molti di questi chiamati UFO così controllano sorvolano e controllano pattugliamento registrano tutto ma non registrano solo come progetto Echelon 500 satelliti del pentagono che registrano anche quello che stiamo facendo di te è tutto registrato da 500 satelliti che poi quando non ci sono le nube fotografano pure io ho visto in America da Echelon hanno fotografato due in un bar all'aperto a Monaco di Baviera si vedeva il conto fotografato fotografo una stella a un miliardo di anni luce vuoi che non fotografano 10 km sotto però questi che pattugliano registrano anche pensieri allora dicono ma perché la Madonna appare a Bernadette che era un'illetterata e tre pastorelli a Fatima a Guadalupe perché loro vedono il livello di coscienza e in genere non vanno dai capi spirituali vanno dove vogliono loro persino padre Pio parla di altri esseri che vivono in altri pianeti che sono ancora in grazia di Dio perché qui pare che c'è stata la caduta con la donna della per cui oramai il Vaticano accetta l'esistenza degli alieni ma Iveda in India parlo di sempre adesso è un periodo di tregua dove né i buoni alieni né i cattivi perché esistono civiltà che si combattono guerre stellari è stato ripreso da un testo indiano Ramayana adesso nessuno può intervenire cioè né i buoni né i cattivi possono intervenire però c'è un pattugliamento dove registrano tutti infatti perché hanno fatto gli americani hanno paura di una cosa continuano a vedere oggetti volanti non identificati sopra le portaerei i sottomarini le basi atomiche alla fine l'hanno detto adesso l'ha detto anche il pentagono però per fare gli snob non li chiamano più UFO ma cose aeree non identifiche WAP vabbè cambiata la sigla però hanno accettato al congresso americano che ci sono degli oggetti volanti non identificati che dove girano sopra le porta aerei allora Giorgio qui c'è un bellissimo passo che ti voglio leggere così prendi fiato un secondo dove tu scrivi che per uscire consapevolmente dal sansara che sarebbe la ruota del ciclo ripetuto se leggi con voce serena queste parole e poi impara a ripeterle solo mentalmente all'istante della tua morte potresti non essere in grado addirittura di parlare io spirito eterno scelgo consapevolmente la liberazione definitiva dal ciclo ripetuto di nascite vite morti e rinascite io ho il potere di fare questa scelta spirituale definitiva io scelgo volontariamente la liberazione finale dal samsara poi respirando lentamente rimani assorto qualche minuto in una serena meditazione questa è la chiave io ti ho detto respirazione consapevole vuol dire senza interruzioni lente profonda meditazione e alimentazione leggera queste sono le tre basi dello yoga io quando tu pensi a mio padre da Ascoli Piceno si è trasferito a Milano per aprire una piccola fabbrica di radio le prime televisioni ce le avevamo noi le messe al 54 figurati io non io non andavo a guardare la televisione mia madre aveva un salone dove arrivano tutti vicini di casa possiamo vedere la televisione lascio la doppia io dicevo ma dove vai vai a dormire no io vado in India cioè io dicevo che non andavo a dormire io mi mettevo sul letto in stato meditativo andavo in India e a 15 anni mi mettevo sulla spiaggia così a spiegare tanto io non ho bisogno di audience io sono l'audience di me stesso però visto che sono qua a livello divulgativo ma sai che c'è gente che ho rivisto dopo 60 anni che ha detto c'è ragione tu e c'è ragione io sì perché tutto avviene per la legge di causa-effetto quindi se tu desideri voglio uscire dal samsara dal ciclo ripetuto di nasce malattia vecchia e morte se non c'è non c'è ma però se sei preparato allora perché porta sfortuna avere un estintore no e allora tu pensi solo all'incendio al fuoco no però è meglio averlo infatti un mio amico che ha un negozio arrivati i vigili lì gli hanno detto che l'estintore non funziona neanche la tua pura multa allora prevenire è meglio quindi è meglio decidere ma se dipendesse da te dove vuoi rinascere uomo o donna però la domanda è tu hai deciso di uscire da questa ruota perfetto perché non ti piace più vivere su questo mondo il tipo di piacere che se tu guardi veramente non a 30-40 anni quando uno fa no capito l'animatore di se stesso di chi incontra ma se uno veramente guarda tutto fino alla malattia alla vecchia e alla morte infatti che cosa come è chiamato il samsara all'inizio è dolce e poi diventa amaro la conoscenza la trascendenza all'inizio sembra amara però dopo provi un gusto superiore il gusto superiore è la percezione consapevole dell'eternità che trascende la mente e i sensi è quello che ha aggiunto un altro capitolo per la terza edizione che si chiama l'eternità noi siamo spiriti eterni solo che non ce lo dicono ma tu in questo 78 78esimo giro intorno al sole come stai come ti senti come vivi meglio di come avrei potuto vivere seguendo quello che mi è stato consigliato da bambino questo sicuro non mi sono mai sentito non mi sono mai sentito un peccatore ho sempre capito che ogni animale che incontro è un abitante del piantaterra come me ogni animale che incontro sia cotto che allora ti dico io torno a casa da scuola dico la mia cara mamma che chiamavo per nome vincensina a lei gli piaceva pure che la chiamassi perché vincenza non gli piaceva aspettavano un maschio la chiamata io vincenzi da oggi non mangio più cadaveri le fa cosa? sai uno torna a luna o uno e mezzo caldo di gli zuccheri ma Giorgio ma che che magica vieni qua porna a cucina aperto il frigo l'obitorio casalingo guarda brandelli di pesce brandelli di pollo brandelli di maiale ma come lo diciamo a papà ma che papà cosa gli devo dire voi a che ora mangiate a luna io torna a luna e mezzo mia sorella mi guardava strano perché io sai cosa facevo? tornavo a casa mi sedevo con questa posizione mettevo tutti mi lavavo le mani mettevo tutti i piatti lì e mangiavo con le mani come in India e me la rimproverata per anni lei invece ha tre forchette tre bicchieri a secco cioè apparecchiava come mia nonna no? però me le lavavo prima e allora avendo quella mezz'ora stavo davanti all'uscita della scuola a spiegare queste cose e c'era sempre un po' di audience se no andavo in un bar vicino a casa mia ma sai che io ero così affascinato da quello che dicevo che qualche volta ho avuto anche dei dubbi se quello che dicevo fosse vero poi quando sono nato in India mi hanno riconosciuto mi facevano sedere mi chiamavano Guruji riconoscevo la lingua i luoghi Benares perfettamente Kathmandu cioè riconoscevo tutto e ancora riconosco però adesso mi sono dato questo look così occidentale no no perché occidentale se vedi Sanremo vedi l'occidentale così da uno del 78 anni mi sono dato un look che posso entrare e uscire dai supermercati l'uomo invisibile però qua esce la mia realizzazione spirituale la mia esperienza spirituale e guarda voglio dire una cosa posso chiudere io con tre minuti vai allora tu dove sei nato tu? a Milano a Milano allora cosa vuol dire nascere a Milano? che c'è già un ritmo di vita molto accelerato ci sono due che nascono uno in Sicilia e uno a Milano e si incontrano in un villaggio turistico della Valtour uno si chiama Marco Cesati Cassin e uno Fiorello no? perché Fiorello ha successo? perché lui anima e l'altro giorno spiegavo devo fare un programma con Marco Cesati Cassin che chiamerò il rianimatore perché Fiorello il tuo amico Fiorello con cui sei ancora in contatto è un animatore tu sei un rianimatore è giustissimo una bellissima storiella questa è una bella storia tra l'altro tutto vero è quello che sta dicendo sì è tutto vero ma molti dicono ma perché? ma perché? sì ma anche io ho lavorato alla Valtour insegniamo yoga sì ho insegnato yoga al villaggio di Khmer nel 1975 in Turchia in Turchia il villaggio VIP era il villaggio VIP dove mandavano io insegnavo yoga e poi per fare qualche soldo mi davano anche abbastanza soldi un bungalow e poi ho detto di no ho detto io devo insegnare fuori io ho una laurea in filosofia perché mi amare mi disse caro Giorgio quello che dici tu va bene ma in Italia se non hai una laurea dicono ecco io conosco tutta la filosofia occidentale per quello che dico attenzione a Pitagora la parola filosofia l'ha creata Pitagora che dice ma tu che religione sei? no no io sono amante di Sofia però quando non c'era la Lore un po' di senso lo humor non so come la Lore si è preso il nome Sofia che vuol dire conoscenza Sofia vuol dire quindi quindi Filos vuol dire amico amante attratto dalla conoscenza quindi la filosofia nasce lì tu hai lavorato 14 anni nei villaggi turisti quindi conosci benissimo che cos'è il divertimento è una trappola perché tu devi vertere 5 giorni poi sabato e domenica diverti e poi rientri quindi crea una spaccatura mentale la vera rianimazione è quella che stai facendo adesso no? è certo quindi manda quindi manda una copia del libro se vuoi manda la prossima vita esatto vi consiglio comunque questo apprendimento dovete fai ricomparire Regia per Piacere le mail di Giorgio per richiedere questo libro e anche gli altri quindi anche questi anche questi anche questi altri sono veramente delle perle molto molto importanti allora io volevo darti un titolo di studio posso? se uno vuole veramente capire come funziona la mente umana o si mette a studiare veramente con dei professori o lavora in un villaggio turistico avendo lavorato conosci la mente umana perfettamente migliaia e migliaia di persone hai proprio ragione no ma i comportamenti i comportamenti capisci? soprattutto quando sono in vacanza quindi sono proprio liberi proprio liberi proprio il lato oscuro vedi la multidimensione vedi la stress la spaccatura volevo ringraziarti volevo ringraziarti e ti invito a continuare il viaggio continua con gioia e con amore e se vuoi vivere bene a lungo ama la vita e credi in te stesso e quando qualcuno siamo in Italia e ti dice ma tu sei credente tu dici e poi fai credo in me stesso un grazie di cuore a Giorgio buonanotte a tutti è stato bellissimo lo ritrovate sul mio canale da subito per rivederlo e noi ci vediamo settimana prossima ciao a tutti buonanotte grazie ciao Giorgio la formula di Dio ovvero la prova scientifica dell'esistenza di un'entità suprema ecco tutto questo si può fare solo in modo intimo e non pubblico come su YouTube o i canali social e quindi dovete venire a partecipare a questo evento molto importante andate su marcocesaticassin.com cercate la formula di Dio e iscrivetevi perché vi assicuro veramente ne va la pena non potete mancare a presto io sono Marco Cesati Cassini